Siamo entrati in un negozio DVD e sono rimasta tutto male per i prezzi, cioè la serie di Fairytale 106.800 yen, che sarebbe 100 euro, quella di Nazuma uguale, Dragon Ball, di tutto, prezzi veramente inarrivabili. Ma anche i DVD, ma questo è niente, in mezzo all'estero ho visto un po' di Bleach a 100 euro, saranno usati, che roro, nessuno ha delle nuove serie, sono i DVD tipo, vecchietti, ah Pokémon, attenzione, il Pokémon però, questo è le origini, bello anche per chi? 38 euro, poi c'è Charizard. No, è quello nuovo, c'è anche Dark Charizard, guarda, comprerò il mio primo DVD in giapponese. I think, da noi la vendono a 1 euro tra un po', a 131 euro, quello che sono rimasta più male, c'è la scatola vuota e poi un DVD e viene tipo 40 euro, cioè tutte scatole vuote e un DVD. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!